Allora, quello di cui parlerò oggi, il titolo è l'abitare moderno. Che cos'è l'abitare moderno? L'abitare moderno è la descrizione di alcuni modi con cui nella nostra modernità, nella nostra contemporaneità, si può abitare. Quindi, alcune immagini ci faranno capire che cosa si intende con moderno e cosa si intende con postmoderno, quali sono le analogie, quali sono le differenze e quali sono i presupposti sia storici sia teorici di questa formula dell'abitare nella nostra contemporaneità. La conclusione in realtà sarà molto semplice, quasi banale, che i modi sono differenziati, che la modernità è proprio questo, la costruzione di un sistema di riferimenti che mette insieme la molteplicità delle differenze all'interno di una sola prospettiva, per poi arrivare a un punto conclusivo che si cercano le condizioni di possibilità di questo abitare. In queste condizioni di possibilità appunto si cerca di reperire le condizioni di questo abitare moderno.